Eccoci tornati in diretta con le fonti Buongiorno Borsa, cambiamo ambito di indagine anche se rimaniamo in generale sui mercati e soprattutto su quello che ci stanno raccontando i mercati in questa parte finale dell'anno e cominciamo a ragionare in prospettiva futura, lo stiamo facendo già da un po' ma adesso ancora di più. Analisi delle principali materie prime e questo è indubbiamente stato uno degli argomenti clou di questo 2022, il tema inflazione, la crisi dell'energia, le materie prime che hanno raggiunto prezzi folli anche e soprattutto con la guerra in Ucraina. Sicuramente Carlo Vallotto ha avuto un bel da fare quest'anno, Carlo buongiorno. Buongiorno a te Emanuela, sì effettivamente c'è stato un gran bel da fare quest'anno perché come hai anticipato tu giustamente il mercato delle materie prime è un po' stato sotto pressione, abbiamo visto i prezzi del gas, il prezzi del petrolio, i prezzi del settore alimentare, tutto l'intero comparto ha visto dei movimenti abbastanza importanti, proprio per citarne uno in brevissimo tempo, abbiamo visto una volatilità proprio del petrolio che è cambiata, è raddoppiata, triplicata rispetto a quello che poteva essere più di un anno e mezzo fa, tante le situazioni e in ultimi insomma anche questo gas che ci fa sempre, ci tiene sempre belli calvi diciamo così. Allora tu hai nominato proprio la parola volatilità, il mercato ha momenti di volatilità più o meno spiccati, ma insomma quest'anno sicuramente, lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo, il comparto delle commodities è stato particolarmente interessato. Giusto per ripercorrere un po' quello che è accaduto, poi naturalmente entriamo nel merito anche delle materie prime che tu hai citato e partiamo dal gas perché abbiamo questo accordo europeo, ma la situazione è proprio come dire diventata importante con la guerra in Ucraina, allora stiamo terminando quest'anno ancora come l'abbiamo iniziato perché la guerra in Ucraina è iniziata a febbraio, tutti pensavamo fosse un conflitto flash più o meno, invece ci ritroviamo qui a dicembre ad analizzare per esempio l'incontro tra Zelensky e Biden, i due si vedranno e con Biden il Presidente americano che ha parlato di un nuovo invio di armi all'Ucraina proprio per difendersi dall'offensiva russa, insomma rischiamo di iniziare l'anno allo stesso modo, insomma dico rischiamo però è abbastanza già nella narrativa, almeno per il momento, poi magari a gennaio si troverà l'accordo e tutto terminerà. Speriamo, speriamo che questo accordo si trovi assolutamente in modo che comunque a prescindere da tutto ci sia una risoluzione pacifica di quello che è questo conflitto, anche se i giornali, i media non sottolineano, ci sono molti altri conflitti che purtroppo imperversano, quindi bisognerebbe concentrarsi sulla soluzione in qualche modo diplomatica di questi conflitti. Conflitti che soprattutto questo che riguarda l'invasione della Russia all'Ucraina, come hai anticipato tu, ha spinto un po' a rialzo gran parte del settore delle commodity, delle materie prime, stiamo parlando appunto, per quale motivo? Perché la Russia è uno tra i principali fornitori, produttori di materie prime, petrolio, gas, platino, palladio, rame anche, insomma diciamo che è molto importante, tante materie prime, le materie prime agricole, il quinto fornitore al mondo di grano, quindi ecco ci sono tante situazioni, tra cui anche l'Ucraina è il settimo fornitore di grano mondiale, quindi ecco ci sono tante situazioni che sono state proprio colpite da questa situazione calda in questa zona qui e ha spinto i prezzi delle materie prime al rialzo, tra cui anche facendo diciamo ecco un complessivo riassunto di quest'anno, molte delle problematiche sono state determinate dai propri prezzi dell'energia, anche per gli altiforni che devono produrre insomma l'acciaio, l'alluminio, il ferro, la Cina con le problematiche insomma collegate alla politica zero Covid e tantissime altre cose, tantissime altre purtroppo problematiche che hanno chiaramente determinato anche delle azioni da parte dei banche centrali, la Federal Reserve, la banca centrale europea per combattere l'inflazione, insomma quest'anno è stato veramente a tutto tondo, un anno credo io dedicato in particolar modo alle materie prime perché appunto è stato probabilmente quel settore in qualche modo maggiormente sotto pressione. Allora andiamo nel dettaglio, partiamo proprio dal gas, price cap, come funziona il tetto al prezzo del gas e poi andiamo a capire anche quali conseguenze ci potrebbero essere, sia sul prezzo del gas ma anche sul prezzo finale per il consumatore, allora ribadiamo un po' quello che è accaduto dopo oltre nove mesi di trattative, il Consiglio europeo ha trovato l'accordo a maggioranza qualificata e non all'unanimità, qui potremmo aprire parentesi sull'unità o meno dell'Europa ma insomma non è il momento, sul price cap appunto che entrerà in vigore il 15 febbraio 2023 per un anno e praticamente ci sono già un po' di sé e un po' di macarlo, giusto per non girare intorno alla questione. Allora intanto diciamo che il tetto al prezzo del gas entrerà in funzione per una durata di 20 giorni se le quotazioni del gas supereranno i 180 euro per megawattora per tre giorni consecutivi e verrà invece disattivato se per tre giorni consecutivi torneranno sotto la soglia prevista. Il price cap potrà essere disattivato in qualsiasi momento se la Commissione europea riscontrerà rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti o se la domanda di gas supererà l'offerta. Allora mi fermo qui intanto, ti comincio a chiedere una prima cosa, poi andiamo a vedere altre specifiche. Fino a qui cosa ne pensi? Perché appunto qualcuno sostiene che sì è stato trovato il tetto al prezzo del gas ma con troppe variabili, varianti che poi insomma lasciano un po' anche spazio alla discrezionalità e quindi a conti fatti cambia qualcosa. Ecco, partiamo da qui. Allora, questo diciamo che permette di essere anche un po' duro in questa consultazione che facciamo. Io credo che il tetto del gas da una parte sicuramente potrebbe essere interessante perché naturalmente cerca di calmirare il prezzo del gas. Bisogna dire che in una situazione eccezionale come quella che abbiamo appunto descritto relativa a quest'anno i prezzi delle materie prima, i prezzi del gas nello specifico di cui sta parlando adesso, bisogna intervenire con altrettanta forza, quindi mettendo delle regole ben specifiche. Questo potrebbe portare come in tutte le situazioni del bene e del male. Ecco, il problema grosso è che naturalmente i prezzi di mercato ormai per chi opera in questo settore qui sa che non possono essere imbrigliati. È come se noi volessimo imbrigliare il prezzo dell'oro, cioè il prezzo dell'oro deve essere libero di muoversi nel mercato, i mercati sennò diventerebbero inefficienti. Ora, per quanto riguarda il prezzo del gas, sicuramente questo potrebbe portare dei benefici, però è un po' diciamo, permettimi di dire, mi sembra un po' zuppicante in questo contesto qui. credo che anche i commenti ci hai fatto tu, insomma, una cosa di cui non parleremo, però insomma, ha messo un po' in crisi l'unità dell'Unione Europea, proprio perché non tutti quanti concordano, sono d'accordo con questo price cap. E qui ecco, questo potremmo anche, sarebbe più un palliativo, diciamo, perché ecco, attenzione, concludo velocemente. Sì, sì, no, no, Carlo, è importante, è importante questo, poi andiamo ad analizzare altri aspetti. Prego, prego. Sì, non è che, diciamo, nell'immaginario comune, diciamo, mettiamo 180 Euro per megawatt, che comunque è un prezzo 10 volte tanto quello che poteva essere 10, 15 volte tanto quello che poteva essere oltre un anno fa. Tra le altre cose bisogna anche sottolineare, per onestà di, diciamo, di narrativa, che il prezzo del gas ha cominciato a salire prima della guerra dell'Ucraina, quindi dell'invasione, insomma, della Russia e dell'Ucraina. Quindi ecco, diciamo che io vorrei sottolineare il fatto, e vorrei mettere anche, sottolineare con l'evidenziatore che probabilmente è stata la normativa, è stato un cambiamento della normativa, della prezzatura dei contratti del gas che hanno privilegiato e privilegiano una, diciamo, una sottoscrizione di contratti più a breve termine rispetto a quelli a lungo termine. Questo ha portato i prezzi a crescere ancora prima della guerra dell'Ucraina. Quindi ecco, io piuttosto che il prezzo del gas, il tetto del prezzo del gas, andrei a rivedere la formazione alla borsa di Amsterdam, insomma, alla borsa. Ok, no, 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 questo è chiaro, infatti anche perché tu hai confermato un po' le perplessità rispetto a questo accordo, anche se poi si dice forse era l'unico accordo possibile, per esempio il presidente di Nomisma, Davide Tabarele, ha detto, l'annuncio di ieri ha fatto calare lievemente i prezzi del gas, è già qualcosa. Mettiamo su, metto un altro elemento che potrebbe farci dire, beh, meglio che niente, no, sai, in queste situazioni. Il fatto che comunque, l'hai detto anche tu, questo accordo potrebbe, quindi il tetto al prezzo del gas potrebbe calmerare i prezzi, soprattutto, e lo metto anche come domanda a te, sul fronte della speculazione, potrebbe controllare, no, tutti, come dire, gli atti speculativi che quando, insomma, abbiamo visto, insomma, quando c'è un rialzo generale dei prezzi, inevitabilmente ci possono essere, mettiamola così. Ma, allora, ti chiedo se sei d'accordo con questi elementi, diciamo così, più positivi. Peraltro, appunto, l'unico accordo possibile, da marzo, per esempio, l'ex presidente del Consiglio Draghi cercava di portare a casa qualcosa, non è mai riuscito, perché l'Europa si è mostrata sempre molto disgiunta su questo fronte. ha rallentato molto su questo. Beh, ci sono diverse situazioni, no, e quindi ciascuno ragionava un po' in casa propria. Esattamente, sì, tra cui la Germania, giustamente, che è uno tra i più importanti importatori di, consumatori di gas, di gas. Ecco, la Germania ha fatto, diciamo, ha legiferato in conseguenza questo e ha messo un price cap al costo interno, dice, il costo del gas per, diciamo, per utilizzo del privato o dell'industria deve raggiungere un certo livello nostro interno, oltre quel livello lì pagherà, pagheremo noi, pagherà lo Stato. Questo potrebbe già essere una, diciamo, una soluzione più interessante, piuttosto che mettere un price cap al mercato, perché il problema grosso, ci sono tanti problemi, il problema grosso è che naturalmente gli investitori o comunque i produttori internazionali dovesse succedere che il prezzo superi 180 euro per megawatt, dovesse arrivare a 230 per ipotesi, speriamo di dire. Però, che cos'è che farebbe? Una persona normalissima che cosa dice? Lo vendo, se oggi il prezzo è 250, lo vado a vendere a chi me lo paga 180 o lo vado a vendere a chi effettivamente me lo vende 250? Quindi, ecco, potrebbe esserci uno spostamento delle forniture non più all'Europa, ma a paesi che lo pagano effettivamente al prezzo di mercato. Ecco, questa potrebbe essere una delle problematiche, quindi l'Europa si troverebbe ad attingere, in questo caso qui, alle riserve, tra cui l'Italia è una tra i maggiori stati che ha le riserve di gas e quindi ci troveremo addirittura a rifornire noi il gas all'Europa. Ecco, ma infatti, guarda, non so se c'entra con quanto stai dicendo tu, intanto vediamo anche il prossimo titolo, che è quello che interessa maggiormente tutti noi, il price cap farà diminuire il costo delle bollette. Al di là del fatto, così almeno andiamo anche sul prezzo del gas, che comunque dopo l'accordo è sceso, però ovviamente la domanda è se nel medio-lungo termine servirà a far scendere effettivamente in modo strutturale il prezzo del gas, perché leggevo che secondo gli analisti, ad esempio di Goldman Sachs, potrebbe essere addirittura un boomerang, potrebbe far aumentare invece le quotazioni, perché un limite al prezzo, senza un piano di riduzione dei consumi, che è questo invece che interesserebbe maggiormente, rischia di accrescere il deficit negli approvvigionamenti proprio di gas in Europa. Ecco, quindi cerchiamo di capire, insomma, farà diminuire o farà aumentare o magari non cambierà nulla, insomma, c'è anche la via di mezzo. Allora, diciamo che normalmente il prezzo in questo momento, diciamo le cose come stanno, sta diminuendo perché c'è una minore domanda, il prezzo è sempre determinato, in ogni caso, nel libero mercato, attenzione, è determinato dal rapporto tra domanda e offerta. Il clima sembrerebbe essere leggermente più mite rispetto a quello che poteva essere la scorsa settimana, quindi ecco i prezzi tendono a calmierarsi un pochino. Poi in questo periodo qua, diciamo che grossolanamente, normalmente, insomma, ciclicamente il prezzo il gas tende leggermente a diminuire e questo è un fattore. Quanto dice Goldman Sachs è da sottolineare a caratteri cubitali perché giustamente, insomma, bisogna, allora, si sta cercando in tutti i modi di controllare la domanda. Se la domanda non si può controllare con delle legislazioni, come è stato fatto in Italia, di abbassamento delle temperature, diciamo, un po' la diminuzione dei periodi di riscaldamento e quant'altro, la si può controllare solamente con un prezzo alto, ovvero come si fa? Cioè, se c'è una bolletta o un rischio di avere una bolletta eccessivamente elevata, naturalmente tutti noi cosa facciamo? Cerchiamo di rallentare, di diminuire, insomma, di… Prendiamo l'esempio, fammi fare questo semplicissimo esempio, il prezzo della benzina è molto elevato, come facciamo per… non utilizziamo la macchina, anziché andare a fare il weekend fuori, rimaniamo nel nostro circondario, quindi non utilizziamo la macchina. Quindi ecco, una demolizione della domanda, è quello che dice Goldman Sachs, per calmerare i prezzi, perché è l'unico o uno dei modi più efficaci per diminuire il costo del gas e quindi diminuire il costo delle bollette, insomma. Ok, ok, ok. Quindi, insomma, diciamo che è sempre meglio che niente, Carlo, ma gli effetti saranno anche, come dire, da vedere rispetto a ciò che accadrà nel panorama generale, insomma, no? Quella è la cosa fondamentale, almeno giusto per semplificare molto la questione. Esattamente, molto semplificata, naturalmente ci vorrebbe, bisognerebbe appunto approfondirla nello specifico, ci vorrebbe molto tempo e quindi ecco, diciamo che questa situazione, questo price cap può andare bene da una parte e dopo, chiaramente, come tutte le cose, insomma, dovrà essere un po' rivisto… Insomma, mettiamola così, diciamo che bisogna un attimino ancora fare tutti un po' di sacrificio, si parla di riduzione dei consumi, di piano, perché così almeno potremmo stare un po' più tranquilli, un po' più al freddo, ma un po' più tranquilli. Allora, Carlo… Sì, anche per… Scusa, velocissimo, proprio per concludere, anche perché questo, dopo, bisognerebbe parlare di ambiente, cosa che i G7 hanno fatto qualche settimana, quindi ecco, una diminuzione dei consumi farà, favorirà anche naturalmente l'ambiente. Assolutamente. Allora, Carlo, ultimo titolo, materie prime e investimenti, molto generico, perché lascio a te, insomma, un ultimo giro di considerazione rispetto alle materie prime che reputi sia interessante valutare, magari anche proprio da un punto di vista di investimento c'è cosa bene guardare in questo momento, insomma, facciamo una bella panoramica. Una bella panoramica la possiamo fare tranquillamente perché ecco, il settore delle materie prime è proprio sempre la nostra beniamata Goldman Sachs, ha indicato, insomma, tra le tante banche che d'affari che emettono il loro report, ma al di là di questo, insomma, possiamo dare un'occhiatina a che cosa? Un po' al settore delle materie prime, ovvero, ecco, io direi di chiaramente una diversificazione, non una singola materia prima, però per quanto potrebbe essere interessante, insomma, possiamo parlare dell'oro, il nostro oro fisico, il nostro oro giallo, insomma, il bene prezioso per eccellenza. In tema di tassi di interesse, credo che il prossimo anno ci sarà una continuità nell'aumento dei tassi di interesse, meno intensa rispetto a quello che è stato fatto, probabilmente la Federal Reserve si era un po' presa indietro, insomma, all'inizio aveva detto, se non ci ricordiamo a male, insomma, aveva spesso sottolineato come l'inflazione, come ci fosse stata, come l'inflazione sarebbe stata transitoria, cosa che non è, e quindi ecco, questo dovrebbe, la transitorità dell'inflazione non c'è stata e quindi ecco, questo potrebbe favorire la crescita o comunque un investimento di medio-lungo periodo per quanto riguarda l'oro, che potremmo diciamo, al momento, i 1800 dollari è un po' un livello basso, però se dovesse raggiungere 1900-1950, ecco, potrebbe essere interessante, vuol dire che c'è una ripresa da parte degli investitori finanziari e questo è una materia prima molto interessante, un'altra materia prima che potrebbe specularmente se l'oro è un bene rifugio, dall'altra parte potremmo vedere un bene, una materia prima come il rame, che è un bene prettamente industriale e legato, come abbiamo detto poco fa, anche a previsioni di miglioramento, insomma, del clima, quindi metallo prettamente anche industriale è utilizzato soprattutto per combattere l'inquinamento, il rame, quindi in molti e più volte abbiamo detto come è possibile che ci sia anche un deficit perché le strutture minerarie in questo momento sono un po' in ritardo negli sviluppi e ci vuole molto tempo e quindi ecco, il rame potrebbe essere deputato per una ripresa insomma, con te Carlo, poi lo faremo nel 2023, ma con te abbiamo sempre, almeno negli ultimi due anni detto, poi ovviamente non è che tu prevedi anche i cosetti cigni neri, quindi quello poi va a cambiare il panorama, però abbiamo sempre detto quale poteva essere la materia prima dell'anno, mi ricordo abbiamo parlato del silver, dell'argento, ecco così, ma molto molto, ragazzi che ci seguite stiamo anche un po' scherzando, anche perché la situazione è molto liquida, ancora non sappiamo molto bene su cosa basarci, insomma quale potrebbe essere il rame? No, una di quelle delle materie prime potrebbe essere il rame? Potrebbe, diciamo potrebbe essere il rame, ecco le tre da tenere sotto controllo sono rame, petrolio e oro, insomma ecco questi sono i tre principali settori da guardare, poi nello specifico per chi invece investe nelle materie prime ci sono tante altre piccole cose, piccole insomma, tante altre, tante altre diciamo materie prime che potrebbero e vanno tenute sotto sotto osservazione, quale il platino, il nickel, tante altre, il ferro, l'alluminio, insomma ecco questo, per parlare di questo e poi andiamo negli agricoli naturalmente con il grano, la soia e il cacao che speriamo che insomma quest'anno ci porti un qualcosa di dolce insomma meglio. Va bene, il caffè come ha messo che abbiamo aperto anche tante volte sul caffè bevendolo insieme in diretta. Esattamente, il caffè, diciamo che il caffè ci aveva, era stato un po' amaro, perché aveva dei prezzi un po' alti, poi diciamo nella parte finale dell'anno i prezzi sono crollati, insomma c'è stato questa, all'inizio c'era un timore di diminuzione della produzione, attualmente invece questo timore della produzione non c'è e gli investitori lo hanno compreso benissimo, i prezzi sono scesi intorno ai 170 dollari per libre, questo ha calmirato un pochino il prezzo del caffè che insomma la stagione 2023 dovrebbe essere relativamente tranquilla per quanto riguarda le forniture, poi ecco è una cosa interessante che è slegata dalle, sembrerebbe essere almeno slegata da quelle che sono le questioni del Mar Nero e quindi della guerra, perché i due principali fornitori sono il Vietnam e il Brasile, il caffè che beviamo insomma, il Brasile ha la qualità arabica, il Vietnam ha la qualità robusta e quindi ecco, diciamo stiamo attenti anche a questo nostro caffè che ci beviamo tutte le mattine e che tante volte abbiamo aperto insomma. E anche a metà mattina, visto che siamo alle 11, forse qualcuno sta prendendo il secondo, terzo, non so quanti caffè prendete. Senti Carlo, prima di salutarti c'è Mirko che ti pone questa domanda sul gas, il GNL, cioè il gas liquefatto, che non deve essere superiore a 35 Euro rispetto al TTF, quello che viene trattato al CME, quello con il ticker, cioè qual è il ticker NG, scusami, aveva sbagliato a scrivere e quindi ha rischitto sotto, ecco, sta dicendo correttamente l'amico Mirko? Allora, dunque il ticker NG è Natural Gas e non è il gas GNL. GNL, esatto. Sono due, diciamo, il gas è lo stesso però sostanzialmente viene liquefato tramite delle lavorazioni. al momento è over the counter, quindi non è ancora apprezzato nei mercati internazionali o comunque è apprezzato ma non in maniera diciamo abbastanza fluida, ecco, anche qui è un mercato che sta nascendo, che sta crescendo, l'America è diventata adesso il principale fornitore di gas naturale liquido, quindi ecco, diciamo che questo, il gas naturale liquido si basa su un mix di prezzi tra il TTF europeo e altre forme di prezzatura, quindi ecco, diciamo che è un mercato che sta nascendo. Non so se ho risposto correttamente alla domanda perché probabilmente, come hai detto tu, è un po' probabilmente a sovrascritto e non si è ben capito. No, no, ma penso, penso di sì, comunque poi ci torneremo insomma sicuramente. Allora Carlo Vallotto, io ti ringrazio per essere stato con noi, invito i nostri amici a seguirti sui tuoi canali personali e poi apriremo anche il nuovo anno con, speriamo di avere più elementi a disposizione con la materia prima del 2023 o comunque un bel pacchetto di materie prime, intanto buon Natale, grazie per la collaborazione. Grazie a voi, altrettanto buon Natale a te e a tutti quanti e soprattutto ecco, speriamo che nel nuovo anno ci sia più tranquillità per tutti quanti. Dai, sì, assolutamente sì, incrociamo le dita a tutti, grazie Carlo, come sempre, buona giornata. Grazie a tutti.